Care amiche e cari amici di Barba Sofia, benvenuti nella cripta del Prof Saudi. Questo è il luogo in cui di solito realizzo i video di cinema e in modo particolare sarà il luogo in cui realizzerò tutti i video dedicati al cinema dell'orrore. Ve l'avevo promesso, sarei giunto dalla cripta alle vostre case il giorno di Natale con la mia proposta cinematografica per la serata, Black Christmas. Vediamo se vede meglio, c'è un po' di luce. Ecco così, Black Christmas di Bob Clark, produzione canadese del 1974, l'anno in cui il Prof Saudi è venuto al mondo, è nato. Black Christmas per un Natale direi assolutamente alternativo. 98 minuti di paura, di tensione, 98 minuti di terrore in alcune sequenze particolarmente riuscite. Siamo in un college e siamo alla vigilia di Natale e le studentesse, perché è un college femminile, si stanno preparando per le vacanze, quando una serie di telefonate sembra turbare l'avvento del Natale, l'avvento delle vacanze, il rompete le righe, si torna a casa e dalla telefonata si passa ad uno scambio molto molto, molto vivace di insulti tra questa voce misteriosa e una ragazza del college. Fatto sta che una di queste ragazze sparisce. Ma neanche la polizia sembra così dar credo a questa scomparsa. sarà data via, sarà fuggita, è la notte di Natale, è la vigilia di Natale, c'è il rompete le righe, tutti vanno a casa dove di festeggiare, la stessa polizia che spesso nei film dell'orrore non è così efficace, per efficace, efficiente, sembra non far caso a tutto ciò, se non che la scia di sangue si moltiplica e sarà un Natale nero, Black Christmas o anche un Natale di sangue titolo del remake del 2006, nel 2006 viene fatto un remake come è ormai tradizione o remake o reboot il cinema mainstream o anche il cinema indipendente tendenzialmente ha bisogno di recuperare vecchie e buone ottime idee per riempire le sale, per produrre, per l'etivo pagamento, per le piattaforme online, c'è bisogno dunque di idee, le idee in una produzione così anche mastodontica con questa attuale non sempre ci sono e si recuperano dunque produzioni, idee, film, situazioni degli anni precedenti, dei decenni precedenti, dunque il cinema dell'orrore ha negli anni 70 la sua diciamo golden age ed è più che mai, anzi, qui dobbiamo mettere più la cosa sui termini, è un'età dell'oro, certamente l'età dell'oro, il cinema horror sono gli anni 20 e 30, il cinema dell'horror tedesco, il cinema dell'horror della pura tedesco e il cinema poi dei mostri americano, però sicuramente la grande, la rinascita dell'horror, dell'horror che riempire le sale è appunto gli anni 70, ma perché voglio rendere omaggio, si vede bene, Black Christmas, perché voglio rendere omaggio a questo film, ah ecco, perché voglio rendere omaggio a Black Christmas, voglio rendere omaggio a Black Christmas, perché, 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 perché prima di faccia di cuoio, mamma mia, Leatherface quando esce dalla porta col suo motosega, Tom Hooper, oggetto che dedicherò a questo film, al massacro della motosega del Texas, una del Texas, una serie di video, perché non mi basterà, prima di faccia di cuoio, prima di Mike Myers, il volto bianco anonimo che uccide e sconvolge la città dell'America, prima di faccia di cuoio, sta arrivando addirittura mio figlio con una maschera, come ti ho detto ieri, lo sai quando faccio i video dell'horror in modo particolare, no? Non dovrebbe venire, invece viene, prima di Jason Wallace, lo psicopatico assassino, morto, risorto, morto, non morto, che non muore mai, di venerdì 13, e prima ancora dell'uomo, del bidello pedofilo assassino, del bidello borsovivo degli genitori della scuola, di Elm Street, prima di Freddy Krueger, ebbene, prima di tutti questi psico-serial killer, prima di Ghostface, Scream, la tetralogia di Scream, prima di Chucky, la bambola assassina, vi è Black Christmas, lo psicopatico di Natale Nero, di Natale Nero, per questo dovete ritornare a scoprire questi film, e addirittura c'è un serial killer negli anni 70, che anticipa tutti, compreso Black Christmas, ed è il serial killer di, non posso svelarmi niente, credo anche mia figlia, di reazioni a catena dell'immenso Mario Bava, a cui dedicheremo anche una serie di video. Ci sono serial killer precedenti Black Christmas? Sì, lui, Lin, tramontabile, Norman Bates, lo psico-killer immortalato da Hitchcock, la casa, le scale, il complesso di Oedipo, la mamma assassina, o no, la protagonista che viene uccisa a metà del film, mai accaduto prima nella storia del cinema. Dopo Norman Bates c'è Black Christmas, e dunque prima, perché con i slasher movies, con gli assassini seriali, intendiamo quelli degli anni 70, bene, i primi due assassini seriali sono quelli di Black Christmas e di reazioni a catena di Mario Bava, debitori certamente di Norman Bates, ma Norman Bates forse, come tutti i serial killer, allora è debitori al serial killer per eccellenza a letteratura, che è ovviamente Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Allora lì andiamo, oppure M, il mostro di Dussel, oppure il dottor Mabuse, o il gambe del dottor Caligari, ma lì andiamo veramente al cinema immenso, totale, filosofico, al cinema con la C maiuscola, ripeto, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e poi abbiamo M, il mostro di Dussel, anzi, poi abbiamo il dottor Caligari, il dottor Mabuse, M, il mostro di Dussel, tutti psicopatici, tutti cassassini seriali, ma con slasher movie intendiamo quelli che dall'inizio alla fine tutti affettano, tutti uccidono, soprattutto le coppiette, le coppiette andando spesso ad anticipare, le coppiette, cioè i fidanzati, spesso ad anticipare l'amara realtà, quella del mostro di Firenze, le coppiette, oppure i giovani disinibiti, così, frivoli, disinibiti, i giovani che magari rifiutano la guerra del Vietnam e vanno fuori porta, i giovani pacifisti, oppure i giovani fricchettoni, gay, le lesbiche, le tettone, le donne appunto disinibite, procaci, tutti vengono massacrati da questi ragazzi orrorifici, da questi mostri, in modo particolarmente i teenagers, i ragazzi, non sono anche teenagers movie, gli slasher movie sono fatti soprattutto per i teenagers, ma che icone abbiamo, e direi che ci sta anche qua un altro video dedicato proprio a questa iconografia orrorifica, Norman Bates in Psycho, Leatherface in faccia e faccia di cuoio, non aprite quella porta, Freddy Krueger in Idol, e dietro mi ricorda, andiamo a fare anche Godzilla, Jason Wallace in venerdì 13, Mike Myers in Halloween, oggi vediamo, magari lo facciamo domani, e Ghostface eccetera eccetera. L'idea qua è molto semplice, Natale è il giorno di festa, è il giorno di amicizia, è il giorno di doni, è il giorno di amore, che sia più o meno ipocrita, più o meno sincero, questo chiaramente lo lasciamo a ogni singolo individuo, è il giorno delle feste, è il giorno in cui si torna a casa, è il giorno in cui si abbracciano papà, ma qui non si abbracciano nella mano del papà, perché qua c'è uno psicopatico, un serial killer che lascerà una scia di sangue proprio il giorno di Natale, per questo Black Christmas, verano fatti poi degli altri film nel 80-84, appunto Natale Rosso Sangue, non aprite prima di Natale, tutti film orrorifici che mettono in scena dei serial killer, appunto in questo caso vestiti addirittura da Babbo Natale. La Dedolo e Sofia salutiamo tutti, Buon Natale, Buon Natale Rosso Rivoluzione, Rosso Sangue o Rosso Amore, Rosso Amicizia, l'importante è che è passiato un Natale di gioia, e Rivoluzione è la rivoluzione, il divertimento parto innanzitutto dalla testa e dal cuore, con il testa e il cuore si incrociano, non c'è nessun muro che possa resistere a questa ondata di libertà. Ciao a tutti, serata horror con Black Christmas, ci vediamo nei prossimi giorni, con Così parlo Zaratustra, ci vediamo con altri filosofi e te richieste, ci vediamo con Godzilla, l'ho promesso ad Edo, No, adesso non possiamo farlo, facciamo il prossimo giorno. Buon Natale a tutti!